Mi ricordo dall'ultima volta che il laboratorio di magia è di là. Va bene, allora tu e Aisha controllate il laboratorio, noi andiamo all'ufficio della Griffin. Una volta assorbiti i poteri di questi mondi potrò prendere Magix in un lampo. Ti sbagli! Re Orithel venne in suo soccorso. Sapevo che l'avrebbe fatto. Il tuo vero padre era molto potente. Non avrei potuto sconfiggerlo se non avesse abbassato la guardia per salvare tua madre. Lascia la regina! Furia del drago! Ecco! Sento, il cuore di Bloom! No, è il cuore di basso magico! Di recente ho visitato un pianeta in cui la magia consisteva tutta nel silenzio. Ti mostro un incantesimo che ho preso in prestito da loro. Forse tu sei in grado di apprezzarlo. No, no! No e anche cosa,ola da risp12. Per dire il video! Buon arco rispondere per divisioni!